Musica Sull'Italia è presente un campo di pressione alta e livellata che apporta condizioni meteorologiche buone su gran parte del paese tranne che sulla Sardegna e localmente sulle zone tirreniche dove sono attese ancora locali precipitazioni Le regioni adriatiche sono interessate marginalmente da un flusso di aria più fresca Il tempo sarà buono su tutta la Basilicata con qualche eccezione per le zone più meridionali, essenzialmente quelle che si affacciano sul Tirreno dove la nuvolosità sarà più intensa e dove ci potrebbe scappare qualche locale rovescio, specie nelle ore centrali Qualche fiocco potrebbe cadere sui rilievi del Sirino e del Pollino oltre i 1500 metri di quota I venti risulteranno ovunque da nord-ovest con qualche residuo rinforzo sulle zone ioniche Il marionio sarà ancora mosso col motondoso in diminuzione, quasi calmo o poco mosso il Tirreno Temperature Saranno stazionare o in lieve calo nelle minime I valori minimi saranno compresi tra i 2 gradi a potenza e i 5 a matera quelli massimi tra gli 11 di potenza e i 15 di matera Tendenza per domani Il tempo migliorerà ulteriormente anche sulle zone più meridionali della regione dove non sono più attese precipitazioni Sul resto della regione avremo cielo sereno o poco nuvoloso con lieve aumento delle temperature massime e un lieve calo dei valori minimi